La parola non ha, nel sapore né idea, ma due occhi invadenti che pesa dentro l'idea. La parola non ha, nel sapore né, ma due occhi invadenti che pesa dentro l'idea. La parola non ha, nel sapore né, ma due occhi invadenti che pesa dentro l'idea. La parola non ha, nel sapore né, ma due occhi invadenti che pesa dentro l'idea. La parola non ha, nel sapore né, ma due occhi invadenti che pesa dentro l'idea. La parola non ha, nel sapore né, ma due occhi invadenti che pesa dentro l'idea.